Se le banche centrali smettono di comprare le obbligazioni, i buoni del tesoro, ma chi diamine li comprerà mai? Ciao ragazzi, ben ritrovati qui sul mio canale. È un interrogativo che si è posto un giornalista americano, quindi l'ho letto, ora vi andrò a raccontare il tutto tramite la proposta di alcuni grafici che vi consentiranno la comprensione di quello che dico, ma è una domanda che noi possiamo estendere ad altre nazioni e quindi ovviamente anche all'Italia. Vi è una differenza di peso specifico della BCE verso l'Italia e di peso specifico della Fed che è maggiore verso gli Stati Uniti d'America, però siccome ad oggi il quantitative easing è terminato per le diverse banche centrali, quindi stavano lì che compravano le varie obbligazioni come se non ci fosse un domani, la domanda rimane, se non le vogliono più loro, ma chi le compra? Chi ce le ha? Come funziona? Bene, cercheremo di andare a rispondere, non meglio a raccontare quella che è semplicemente la situazione, perché in realtà era un quesito senza risposta, era il quesito di colui che è preoccupato, perché se nessuno gli compra più le obbligazioni poi il paese va a finire proprio a gamba all'aria, oppure i tassi di interesse salgono alle stelle in maniera insostenibile. D'altronde, magari anche un paese come l'Italia, non basta che, mi lamenterò ragazzi, mi lamenterò sempre, che essendo una partita IVA non basta, non è sufficiente ovviamente per finanziare in maniera adeguata tutto il suo sistema con delle tasse fuori controllo, ma servono per mandare avanti il paese, serve che qualcuno vada a comprarsi i BTP, le obbligazioni, tutte quante quelle che conoscete, bisogna comprarle perché altrimenti lo Stato non sa come finanziarsi, il 70% di tasse che mi applica non sono sufficienti. Ragazzi vi vado a condividere adesso lo schermo del mio computer, così cercare di comprendere il meglio possibile. Io prima di farlo vi chiedo un'iscrizione al canale e di lasciare un bel like per sostenere tutto quanto il mio lavoro qui sul tubo, grazie. Come promesso nell'introduzione del video, iniziamo con gli Stati Uniti d'America. Cosa si vince da questo grafico? Beh, stiamo osservando i tre attori che hanno detenuto e detengono più obbligazioni americane in portafoglio, dal 2000 ad oggi, quindi oltre 20 anni. Con la linea rossa osserviamo la Cina, con la linea blu osserviamo il Giappone e con la linea verde osserviamo la Federal Reserve. Quindi vediamo come in passato ci fosse stato un continuo accrescimento da parte della Cina, proprio di acquisto di obbligazioni americane e poi il trend si è invertito nel 2010. Addirittura dal 2008 al 2010 è stato il primo possessore in termini percentuali del debito pubblico statunitense. Da allora, come sta facendo anche il Giappone, la Cina riduce di un anno in anno le sue quote. Lo sta facendo per un paio di motivi essenzialmente. Andare quindi a vendere, a liberarsi di dollari sul mercato favorisce comunque una minor svalutazione della sua moneta. Inoltre non c'è, diciamo, non corre buon sangue, soprattutto negli ultimi anni tra Stati Uniti e Cina e quindi anche un modo per mettere sotto pressione, in un certo senso, gli Stati Uniti d'America della serie non vogliamo più il tuo debito. Ma sembrerebbe che nessuno voglia più il debito degli Stati Uniti d'America. In realtà è un problema anche magari di altri stati, no? Quindi chi è alla fine che veramente riesce a subvenzionare i vari governi del mondo? Sono le banche centrali e in alcune situazioni, diciamo, vi è un'esasperazione. Come per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America? Guardate l'aumento del bilancio delle obbligazioni da parte della Federal Reserve. Quindi chi è che ha sostenuto la possibilità di creare deficit, di fare deficit di Stati Uniti d'America? Essenzialmente la Federal Reserve, nessun altro. Quindi una banca centrale che in pratica riesce a creare denaro dal nulla e quindi laddove desiderasse potrebbe vita natural durante, a tempo indeterminato, ritrogare il sistema e proseguire con questo gioco. Tuttavia abbiamo visto quello che è accaduto negli ultimi anni. Alimenta il sistema oggi, alimentalo domani, in più magari si fanno a sommare decenni neri o più eventi nefasti possibili tutti quanti insieme e ti ritrovi con un'inflazione al 10% e quindi sei costretto ovviamente a tagliare il tutto, passare da un quantitative easing a un tightening. Quindi no, non compro più le obbligazioni come prima. E quindi il nostro giornalista si chiedeva, ma allora, se nessuno vuole più le obbligazioni, chi le comprerà? Chi sosterrà il debito degli Stati Uniti d'America? È una domanda lecita perché se la Federal Reserve smette, non mi sembra che ci sia una lunga fila di attori importanti. Quindi necessiterà che le rendimenti, le cedole diventino veramente super allettanti e allora a quel punto magari andrà ad attirare di nuovo tanti attori. Ora, però, che possiamo dire? Vedete qua come sta infatti aumentando a dismisura, no? Perché se nessuno, non c'è più la massa di prima di acquirenti, se non si, prima di mente cosa faceva la Federal Reserve? Si andava a fagocitare, a divorare letteralmente le emissioni delle obbligazioni, proprio le obbligazioni esistenti. Se smette non c'è più quella pressione. E anche, quindi sono anche liberi, no? Di decollare i tassi. Ma cedole sempre più ampie, più importanti, cosa fanno? Mettono sotto pressione la nuova emissione di debito di uno Stato perché oltre a dover ripagare le proprie obbligazioni vi è un tasso di interesse. Più diventa più importante e maggiore sarà il debito. Un conto è finanziarsi, quindi creare un debito anche importante ma con un interesse allo 0, all'1%, un conto al 4, al 5, al 6%. Ovviamente è proprio un'economia, no? Di base, direi addirittura domestica. Chiunque vada a prendere un prestito o un mutuo se ne rende facilmente conto senza, diciamo, stare lì a conoscere i massimi sistemi o l'andamento sofisticato della macroeconomia. E quindi guardate anche da questo grafico come si vince ancora di più, no? Vediamo sempre in verde la Federal Reserve, in rosso la Cina, in blu il Giappone. E' la Cina, voglio dire, scusate, la Federal Reserve che fomenta e alimenta e si divola trilioni di dollari in questa maniera qui, o meglio, li crea da nulla. Vedete qua quindi la percentuale, ed è logico, di possessori stranieri, quindi al di fuori degli Stati Uniti d'America, per quanto riguarda il loro debito. Della serie non lo vuole più nessuno. Siamo passati da un picco qui, del 50% quasi, praticamente al 30%. Quindi siamo arrivati un po' ai minimi del 2000, con i percentuali che in realtà conosciamo anche in passato. Chissà che non si andrà a creare adesso un nuovo ciclo real system, al senso, dei possessori stranieri. Abbiamo detto che l'unica cosa che potrebbe sicuramente aiutare è comunque andare a vedere delle cedule sempre più importanti. Vedremo se effettivamente sarà così, più ovviamente situazioni geopolitiche e anche percezione del rischio. Ma se sono a rischio gli Stati Uniti d'America, ragazzi, voglio dire, se saltano loro, salta tutto quanto il banco. Allora, andiamo qui ancora avanti. Chi è che rimane costante? Praticamente solo le istituzioni americane. Quindi andiamo a escludere anche la Fed, di chi stiamo parlando adesso. Andiamo a includere i vari fondi pensione, fondi comuni di investimento, quindi questa è la categoria qui. Ora, invece, andiamo a studiare la situazione italiana. Me ne sono andato un po' a documentare, cioè chi detiene qui il nostro debito. E quindi andiamo un po' a vedere questo grafico, lo tratto da monicavitali.com e praticamente notiamo che il 20%, qui abbiamo un peso di banche centrali e banche Italia, 29% investitori esteri, 46% banche di chito ordinari, assicurazioni, fondi investimenti italiani, solo il 6% famiglie e imprese italiane. Se poi andiamo anche a escludere le imprese italiane, magari una volta sono sicuro che erano molto più alte le percentuali, gli italiani, i nostri genitori, i nostri nonni. Ci ho sempre raccontato, l'abbiamo sempre visto, oppure voi se mi state ascoltando, diciamo, le persone un po' più grandicelli, diciamo così grandicelle, beh, era consuetudine investire nei buoni del tesoro italiani, in obbligazioni del governo italiano. E poi la festa è finita, in che senso festa? In realtà a livello reale i rendimenti erano sempre scarsissimi, perché laddove il nominale, quindi c'erano un 3%, un 4%, un 5%, addirittura una volta si investiva il 10% o anche più, e all'epoca l'inflazione era così alta che poi a fin dei conti uno non si portava a casa quasi niente. Poi è successo che sia in termini reali ma anche nominali siamo andati a finire allo zero e quindi sinceramente nessuno è stato più attratto da quegli strumenti. Quindi se dipendesse semplicemente dai cittadini italiani, l'Italia non riuscirebbe a vendere nemmeno un'obbligazione. Questa è la verità, è la pura verità. Chi detiene i titoli di Stato? Qui ho visto un altro grafico, quindi ci sono vari percentuali di dati estratti, dipende anche dall'anno ovviamente, quindi qui c'è anche questo dettaglio. Vedete che cambiano un po' le percentuali, prima avessero la Banca Italia un 19, vediamo un 25, vediamo anche qui la vita residua media del debito pubblico italiano 7.8 anni, il 46.15 del debito pubblico è tenuto dalla Banca Italia o da istituzioni finanziarie italiane, quindi anche se ci andiamo a sommare altre istituzioni finanziarie italiane. E quindi praticamente toltesi le Banche dettagli, istituzioni finanziarie italiane, diciamo che quello che rimane è metà BCE, 20-25% BCE, l'altro 20-25% investitori esteri. C'è questa oscillazione perché poi abbiamo visto quel 5-6% di investitori che sono italiani ma di cui ci sono anche le imprese e non solo i cittadini, quindi più o meno questa è la torta. Qui è interessante vedere come è cresciuto il debito, qui è miliardi di lire, poi anche per gli anni a seguire con l'introduzione dell'euro diciamo hanno mantenuto qui lo stesso sistema per far vedere la crescita e guardate ogni anno come è aumentata anche la duration, la vita residua della totalità delle obbligazioni italiane. Prima addirittura negli anni 80 duravano un anno, adesso siamo andati a una vita maglia di 7 anni perché oltre magari a 2-3 anni a 10 anni abbiamo potuto anche conoscere delle obbligazioni di 50 anni, ma per me è una follia veramente. Andiamo ancora avanti e qui notiamo anche l'aumento pazzesco quindi del deficit e quindi l'aumento del rapporto fra debito e PIL che significa questo numero. significa che nel 2005 il debito italiano era praticamente pari al PIL, prodotto interno lordo che era capace di produrre in un anno. Ad oggi invece stiamo a un rapporto del 155% quindi il debito è pari a un anno e mezzo di PIL italiano e purtroppo vediamo che è una tendenza che cresce, cresce, cresce e sono dati negativi perché tu vai a vedere che il debito è mostruoso rispetto alla capacità produttiva del paese e poi si farebbe pesante la situazione laddove i tassi continuassero ad aumentare. Quindi negli ultimi 10 anni, 20 anni abbiamo visto anche dei debiti cresce tantissimo sia a livello governativo ma non solo diciamo italiano ma anche europeo ma anche statunitense un po' in giro per il mondo e poi anche nel privato ma anche per quanto riguarda soprattutto le imprese proprio perché il sistema lo ha alimentato questo fenomeno con delle obbligazioni o meglio con dei tassi di interesse quello voglio dire bassissimi o prossimi allo zero e andare a aumentare tantissimo questi tassi che era veramente degli scompensi delle catastrofi in molti ambiti economici. Ma d'altronde se non si fa ci sarà questa inflazione galoppante. Diciamo che le politiche passate stanno rappresentando il conto della serie non ci sono mai pasti gratuiti. E qui vediamo il mondo che è molto interessante secondo me perché parliamo sempre solo di paesi ma se vediamo il rapporto del deficit quindi del PIL rispetto al debito e quindi se superiamo il 100% comunque ci si avviciniamo andiamo in rosso. Cosa troviamo in Bordeaux? Lo vedete soprattutto e quasi unicamente possiamo dire il mondo occidentale. Vedete l'Europa, gli Stati Uniti d'America, il Giappone. Sì poi abbiamo qualche altro paese ma eclatante come si è sbilanciato nei confronti del mondo occidentale. Invece nel resto del mondo questa percentuale è sotto controllo quindi si capisce chi ha alimentato e chi ha drogato questo sistema quindi soprattutto sono state l'economia del dollaro, dell'euro e poi del Giappone. Andiamo avanti e con questo grafico vediamo l'andamento sotto forma di colonne quindi dell'aumento del rapporto fra il PIL e il debito. Quindi il debito che sale sempre di più l'abbiamo già visto ma certi grafici sono ancora più impattanti a livello proprio visivo. Tra il 2020 e il giugno 2022 la BCE ha effettuato acquisti netti dei titoli insomma del debito pubblico italiano per 363 miliardi. Veramente tanti, no? Ma concludiamo. Cos'è il quantitative tightening della BC che colpisce i BTP? Beh, non c'è più la festa di prima. Praticamente ad oggi che cosa accadrà? E diciamo in America è anche più aggressivo rispetto a qui perché in America non vanno a rinnovare tutte quante le scadenze. No, qui il problema è che non viene alimentato sempre di più il sistema come è il quantitative easing ma quindi non verranno più comprate nuove obbligazioni però vanno andando diciamo rinnovate quelle che scadono. Quindi diciamo permane sempre un sostegno non fortissimo ma un sostegno permane perché altrimenti obbligazioni ragazzi non se le compierebbe nessuno. abbiamo capito che sia ancora più esasperato questo concetto negli Stati Uniti America però è presente tantissimo anche in Giappone a dismisura, è presente anche in Europa ed è comunque una percentuale essenziale anche per l'Italia. Quel 20-25% è essenziale per la sopravvivenza dell'Italia per non far crollare letteralmente l'obbligazionale e mandare le cedole al 10%. Bene ragazzi eccoci qui a schermo e terminiamo come abbiamo iniziato ma che diamine lo comprerà poi il nostro debito pubblico se la banca centrale smette di andarlo a prendere, a comprare, a finanziarie? Per fortuna che almeno abbiamo letto che qui per i nostri titoli verranno rinnovati ecco non se ne comprano di nuovi, non c'è quella possibilità perché non necessita, l'inflazione è alta c'è troppa liquidità nel sistema, lo penso a tutte le banche centrali cioè prima le hanno messe a dismisura e poi ci hanno allagati ma non a noi cittadini, cioè noi cittadini non vediamo niente hanno dilagato i mercati, la finanza eccetera ci troviamo con l'inflazione al 10% con una stagflazione nel senso che gli stipendi i vari bilanci delle piccole maglie imprese italiane non penso che stiano aumentando del 10% tutt'altro ci siamo in grande difficoltà e ragazzi sfogatevi, raccontate quello che vi pare ci sentiamo alla prossima e io vi auguro come sempre a prescindere il meglio nella vita e negli investimenti ciao ragazzi, a presto